Davide Buzzilanghi è passato poco più di una settimana dal suo ingresso in Giunta, delega al turismo, al commercio e alla cultura. Iniziamo con la cultura, che cosa si sta facendo, che cosa si è fatto nei primi incontri? Esatto, io mi sono appena insediato, però è un'attività che mi piace molto, è un'attività costruttiva, ci sono parecchie cose da fare, c'è parecchio impegno da prestare. Per quanto riguarda la cultura, sto cercando di focalizzare l'attenzione molto su alcuni eventi immediati che faremo, come il Carnevale, che è un evento che ovviamente è organizzato dagli uffici della cultura, però è a beneficio delle famiglie di Alessandria che vogliono farsi momenti di svago con i bambini. Però a livello culturale c'è una struttura in Alessandria, che è la Biblioteca Civica di Alessandria, che è una struttura d'eccellenza, è un'eccellenza del territorio, va sicuramente rilanciata, va sicuramente portata all'attenzione maggiormente dei cittadini, è molto utilizzata e quindi non abbiamo problemi di sottoutilizzo della struttura, mi sono già fatto dare tutti i dati e mi sono informato parecchio, però va portata maggiormente all'attenzione a livello provinciale, appunto perché è una struttura d'eccellenza, non deve essere solo la Biblioteca di Alessandria, ma deve essere una biblioteca che rientra a un disegno di provincia. Io vorrei che la gente da Novi, da Tortona, da Ovada, da Casale venisse in Alessandria a usufruirne e quindi sarà a mia cura occuparmi di questo. Poi parliamo di commercio. In commercio sono contentissimo anche di ricoprire questo ruolo che è stato amministrato per quattro anni e passa dalla Manuela Unandi, una carissima persona che ha svolto molto bene il suo lavoro, questo è un feedback che ho avuto dalle associazioni di consumatori e quindi glielo posso dire anche in diretta e io cercherò di replicare il suo lavoro portando avanti le mie iniziative, ponendo le mie anche idee. Sono parecchie cose da fare, chiaramente sono state fatte delle liberazioni dal governo nazionale un po' troppo repentine, un po' troppo veloci, io sono ovviamente per natura favorevole al commercio, al dettaglio, al commercio tradizionale e quindi adesso faremo degli incontri, uno, il primo sarà martedì 24 alle 11.30 in comune dove i commercianti e le associazioni verranno in comune che ho chiamato in bottega insieme. In questo incontro cercheremo di esprimere tutte quante le nostre idee, le nostre considerazioni sul commercio di modo che possiamo andare a contrastare quella che è la grande distribuzione perché comunque è una realtà che in questo momento sta dando fastidio al commercio tradizionale con tutte queste liberalizzazioni. Sarebbe giusto porre dei correttivi a queste norme.